Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor Per poi riprenderla in questo video Visto che nell'altro se no veniva fuori un video lungo 50 minuti e direi che non era il massimo Ok riprendiamo con la storia Andiamo in mezzo a tutti i mostri Oh finalmente facciamo un po' più male a questi drone C'è anche i seguci della caccia selvaggia Ottimo Fuggiamo, fuggiamo Vediamo se riusciamo a fuggire così senza far fuori tutti Via 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 via, arriva la caccia selvaggia Ok siamo arrivati qua Adesso Chissà che ci sta cercando sto qua eh Chissà che ci sta cercando sto qua eh Non ci ha trovati Non ci ha trovati Il blu Il blu Il blu Il blu Il blu Ma qua non è che questione di giovinezza è proprio tutto da cambiare ragazze allora uccidiamole subito ragazzi non vendicare l'albero mi dispiace troppo la ragione l'albero stavolta un uomo sovrò anche i bambini i nostri fates abound true but now is not the time for that to bare fruit schifoze now you shall chase shadows in wanderlust fog each time you see her she will be a mirage and if you find her se la dora morirà, ti vedrai, fanzo niente direi che volevo ammazzarmi vabbè non possiamo far niente ragazzi allora faccia del libro arbitrio nel gioco devo ammazzare queste? non posso vabbè allora io direi prima di tutto di andare a riferire al barone che abbiamo trovato sua moglie e che è in ostaggio da dalle tre magiere sperando che ci rimandi a prenderla mio caro barone ero in effetto è abbastanza è abbastanza dai raccontami come è andata la verità dai facciamo anche da psicologi ragazzi con Anni King Athen, e Faltest sento aiutare, era una battaglia verso l'altra, un conflitto dopo l'altra, era una vita di guerra, ero sempre a casa, e ho trovato un conflitto nel drink, si è diventato così fonte di Hooch, che non potevo partire con lui quando arrivò a casa. Non tiriamola troppo per le lunghe. Un bel cornutazzo allora. Eh beh ma scusa dai, non potevi mollarle semplicemente evitare una volta di menarla ogni giorno. qualcuno ha guardato me per anni, senza un rischio di preoccupazione per me, per il mio amore. Come hai trovato? Ho venuto un giorno un giorno e Anna fu fuori. Le cose anche. Ho trovato una lettera. Ho scritto che non mi amava. Che mi lasciò per il liquore di nob e prenderlo. Ho sentito come se avessi impurato un cavallo. Per ottenere le ragazze. E prenderle a casa. Ma appena che ho visto, qualcosa si è diventato dentro di me, qualcosa scuro. Ecco. Ho scusato la piazza di ammigliata, e ho venduto la caccia alla città. Facciamo questa battuta che mi piace Cosa? Il tuo nome? Fa' sentido ora? No, no, è una storia completamente diversa Ah Vabbè, dopo me la racconti Non ero esattamente piaciuto Ha! Non l'esplicitazione se ne ho mai sentito una Si è riuscita in un pezzo Esteria La terra lasciava andare Ne trovavo una più giovane e via Non lo so Ho avuto calmarla Ho sentito che non avevo nessun altro motivo Le cose hanno cambiato Non sarebbero mai la stessa Anna ha cercato di prendere la sua propria vita E la mia Varianti volte È abbastanza bella È abbastanza bella Tu mi dai il via e io vado la prenderla Ma non ci dà anche le tre stronze Ma non ci dà anche le tre stronze Ma ci siamo Ma ci siamo E come sai ora Non tutto Era come potrebbe essere Cosa facciamo? Siamo così almeno Si smuove e ci dice qualcosa Sì, a lei mi dice come si è arrivata in quella scuola Si smuove Si smuove e si smuove Sì, credo che la possa perdere il suo cuore Un poore? Che la sua madre? Si smuove 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 dai fammi andare a prenderla fammi andare a prenderla dai eeeh eeeh ma avesse ucciso l'albero giusto vediamo prima dell'accordo l'attacco del basilisco ah right gargantuan one solid brute watch out if i don't survive this you ought to take whatever you want from the fortress attimo let's show this bastard what we were asilisco dei miei coglioni come faccio a farlo scendere sto coso vieni qua facciamo fuori sto coso eeeh la madonna quanto mi fai male pezzo di merda oh forse l'abbiamo ucciso basilisco che è simile alla coccatrice ahahah dai siri ha rapito il barone ahahahahah bene ragazzi nel prossimo video andremo in cima alla torre a salvare il barone anche perchè non so quanto dura quindi faremo in un altro video spero che il video vi sia piaciuto un saluto a tutti alla prossima puntata ciao